Una nuova casa per la Triestina, un'area della città riqualificata, uno spazio dedicato a tutto il rione ma non solo e un ulteriore tassello per far vedere ancora una volta che il club Rosso Labardato sta pianificando un futuro serio e professionale. Oggi i municipi erano in molti alla presentazione della rigenerazione del campo Ferrini di Ponziana, progetto che vede la Triestina a capofila seguendo lo strumento del project financing approvato oggi dalla Giunta. Il comune ora provvederà a emanare il bando per i lavori. È veramente un mattone che la Triestina ha messo dopo tanti anni, avere la possibilità di fare un proprio centro sportivo, quella foresteria, avere i propri campi, questo fa sì che anche il futuro di Triest, i prossimi presidenti, i prossimi dirigenti sia diverso. Insomma da quando mi allenavo a Turiaco, al villaggio del pescatore, a Visogliano, insomma avere una propria struttura in più grezzare magari per la prima squadra ci facilita sicuramente le cose, ci dà anche tanta aggregazione, tanta voglia di investire su Triest. Ringrazio Mario per gli investimenti che sta facendo, ringrazio anche l'amministrazione comunale. Oltre 4 milioni e mezzo di euro stanziati, di cui 1,2 finanziati dalla regione, per due fasi di progetto. La prima per la riqualificazione del perimetro esistente con campo, spogliatoi e bar tirati a nuovo. Poi la realizzazione di nuove strutture che saranno il quartier generale dell'Unione. La fase 1 inizierà a ottobre per concludersi a gennaio o febbraio del prossimo anno con la consegna del campo a 11. Per la fase 2 invece ci vorrà ancora un po' di tempo. Il progetto, come si dicevamo prima, si compone di due fasi meramente differenziate per una questione urbanistica perché la fase numero 1, che è la restiturazione del campo esistente a 11, che avrà anche una tracciatura delle righe per due campi a 7, gli spogliatoi esistenti e anche il bar esistente oggi verranno fatti in strumento diretto e immediatamente dopo l'aggiudicazione. Mentre la seconda fase, quello che oggi è il parcheggio di Piazzale delle Puglie, verrà trasformato con una variante urbanistica in un edificio polifunzionale all'interno del quale ci saranno gli spogliatoi e tutta una serie di attività legate all'attività sportiva della Triestina, un campo a 7, un campo a 11 e un parco giochi per i ragazzi. In più verrà restaturato anche tutto il parcheggio oggi, in parte abbandonato, del palazzetto, che verrà utilizzato in parte come parcheggio di relazione del progetto Triestina e in parte come parcheggio pubblico in cambio dei parcheggi tolti a Piazzale Puglie.